Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi voglio scusare se in questi giorni non ho fatto video, l'ho detto anche l'altro giorno, però sono stato parecchio male, ho avuto febbre e influenza, insomma adesso la febbre non ce l'ho più, non sto benissimo però la febbre non ce l'ho più, di conseguenza riesco di nuovo a parlare, a fare dei video e quindi vi voglio parlare della partita appena terminata, quella fra Torino e Atalanta terminata 2-0. Non ho fatto neanche video sui consigli per le schienine e fantacalcio, ragazzi non ce la facevo, non mi andava, ero stanco, non c'avevo voglia di farli e non li ho fatti. Quindi Torino e Atalanta, Torino e Atalanta finita 2-0, bella partita, bella partita perché è giocata fra due squadre che comunque di base sono due squadre che sono molto in forma. L'Atalanta ok, aveva perso l'ultima partita col Milan per 3-1, però comunque veniva da un grandissimo periodo in cui aveva battuto anche la Juventus in Coppa Italia, quindi un bel periodo per loro. Il Torino invece sta ingranando alla grandissima, sta facendo una grande fase di stagione, aveva battuto anche l'Inter per dire ora batte un'Atalanta e non è facile battere questa Atalanta. E Torino che è in grande crescita, Torino che fa un recupero importante, prima era il decimo, undicesimo in classifica, abbastanza distante dalla zona europea, adesso è settimo. Quindi comunque è in lotta per le zone che riguardano l'Europa e ok, mancano effettivamente ancora tutte le altre praticamente, ma in realtà delle squadre che sono sotto alla portata, c'è la Fiorentina che se vince però all'Inter, se vince va a pari punti di Atalanta e Torino appunto, che sono attualmente a 38, e poi la Sampdoria che invece è a 33, quindi anche vincesse comunque rimarrebbe sotto. Quindi il Torino comunque si è ributtato nella mischia. Sono contento perché il Torino è anni, secondo me, che era una scuola qualitativamente di livello. Poi non riusciva effettivamente, mancava sempre quel qualcosa, quel qualcosa che secondo me il Torino quest'anno ha trovato ed è la solidità difensiva. Questa grazie ad Izzo che a fianco a Ancoulou dà molta molta sicurezza, secondo me. Izzo a me piaceva già il Genoa, però quando è arrivato al Torino chiaramente era uno di quei centrali a tre, cioè di quei difensori della difesa a tre, che mi piace di più sul centro-destra. Se secondo me sarebbe perfetto per esempio per una Lazio, la Lazio che gli manca quella pedina lì, Izzo sarebbe fantastico. E il Torino allo stesso modo ha trovato un giocatore che gli sta garantendo, oltre a qualità dal punto di vista difensivo e sicurezza dal punto di vista difensivo, che poi si è trasmessa a tutto il trio più Sirigu in porta, sta trovando anche un difensore che segna pure, perché ha segnato come detto con l'Inter il gol vittoria, segna il gol vittoria oggi perché segna il gol del 1-0. Comunque è un difensore che, come detto, ha qualità e marcatura, nonostante non abbia questa stazza fisica immensa, ha capacità fisica invece, sa sfruttarlo bene il fisico, non si fa battere anche da attaccanti più grossi, è veloce, quindi è un centrale veramente molto interessante anche in ottica nazionale, questo lo dico, assolutamente. Atalanta che sicuramente aveva di pecca le assenze, assenze che hanno pesato molto, secondo me le due assenze più pesanti oggi sono state sicuramente quella per scelta tecnica di Toloi, che è un centrale che comunque ti permette di avere una spinta offensiva in più perché si alza molto, lo faceva anche Masiello, però Masiello si vede che Adel non lo fa più perché è tanto che non gioca, che effettivamente ha giocato oggi il titolare dopo, non so, dei mesi e lui ci aveva di spingersi in avanti, non lo faceva però evidentemente, quindi ci sta che sia un pochino anche lui in calo fisico, ci può stare comunque a 34-35 anni, quindi ci sta. Quindi Toloi in fase difensiva, che oltre ad essere un bel difensore ti dà anche quella spinta offensiva, e secondo me Derun, ragazzi, Derun, l'abbiamo visto il buco che c'era spesso fra la difesa e il centrocampo, e quel buco chiaramente è di solito colmato da Derun, che si mette in posizione difensiva, ti offre una soluzione da fuori in caso di una punizione, di un calcio d'angolo, di un'azione offensiva, quindi insomma Derun è quel giocatore che ti trasporta un po' la squadra, ti tiene un po' l'equilibrio della squadra e oggi la sua assenza per squadrifica, secondo me, c'è stata. Ancora di più, secondo me, quella del Papu Gomez, devo essere sincero che è un po' meno pesante, secondo me, almeno lo è stato in questa partita. Devo dire, devo dire anche un'altra cosa importante, non capisco la scelta di boicottare, cioè non boicottare, scusa, ho detto una stronzata, quella di escludere a priori Barrow, nel senso che abbiamo visto anche oggi che al 16esimo si è fatto male Gosens, è entrato un certo Kuluzeski, che sbaglio anche la pronuncia, 99 su 100, che onestamente non mi è sembrato neanche niente eccezionale, è un ragazzo giovane, è uno dei tanti giovani, come lo era Barrow l'anno scorso e come lo è tuttora Barrow, però che dal niente escono dall'Atalanta e di solito esplodono appunto con la prima squadra e così come ha fatto Barrow, così come ha fatto Mancini, così come ha fatto Caldara, Gagliardini, che sì, ve li devo dire tu, Conti, ce ne sono tantissimi, no? E il problema fondamentale, quello che mi turba, tra virgolette, è il fatto che Barrow l'anno scorso era un giocatore sensazionale, un giocatore che però quest'anno non sta trovando spazio, capisco come punta centrale perché davanti Duvan Zapata che è molto molto più forte, però adesso mancava il Papu, ci stava secondo me mettere lì Barrow titolare addirittura, perché addirittura come titolare è stato messo Castagne lì, quindi insomma è proprio una bocciatura per Barrow e Barrow non capisco il vero motivo, anche perché poi tra parentesi è entrato Barrow e è uscito Kuluzeski lì che era entrato al sedicesimo, quindi bocciatura per uno, bocciatura per l'altro perché ovviamente Barrow non sta giocando, è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che è giovane e probabilmente gli manca un po' la fiducia in questo periodo. Mi sembra molto strano e non capisco perché, se ha avuto dei problemi con la società, con Gasperini, non lo so, però è chiaro che in questa situazione secondo me Barrow è un giocatore che va ceduto, cioè Barrow è un giocatore che ti può permettere di fare un 10-15 milioni, secondo me l'estate l'Atalanta deve liberarsene perché mantenerlo così è un vice che non ti serve a un cazzo, perché non è neanche un vice, è un giocatore che attualmente io manderei di nuovo in primavera perché non si è mai visto, ecco. Comunque ragazzi io spero per la sua crescita anche perché è interessata la Juventus a lui l'anno scorso, è interessato se era parlato di grandi squadre su di lui, quindi sinceramente è un po' strano e anche un po' un peccato. Detto questo ragazzi il video è finito, io vi invito a mettere un piaccio se volete altri video post partita, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo questa partita appena terminata e vi invito infine a riscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, a dualità calcistica, fantacalcio e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.